Super gossip. Dopo l'uscita di Roberta e Alessandro, i fan di Uomini e Donne sono scettici sulla durata di questa coppia. A Natale ritorneranno. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono usciti insieme da Uomini e Donne nella puntata trasmessa questo lunedì. I fan del programma si sono subito riversati sui social commentando l'accaduto. Gran parte degli utenti non crede che questa coppia reggerà al di fuori dalla trasmissione e che i due torneranno presto in studio da single. La nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne è iniziata con la decisione di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di uscire insieme dal programma. Dopo tanti alti e bassi, i due hanno scelto di conoscersi meglio al di fuori dello studio di Maria De Filippi. In realtà sembra che siamo stati un po' spinti a uscire da parte di Gianni Sperti che in puntata dopo averli visti ballare insieme ha detto «Dopo aver visto questo ballo credo che siate molto presi e che non abbia più senso stare qua a prendere in giro tutti». Al che Roberta si è detta disposta ad uscire insieme ad Alessandro, il quale ha preso la palla al balzo e ha scelto di andare via insieme alla dama di Cassino. Prima di lasciare lo studio, i due hanno ballato insieme scambiandosi più di un bacio. Nemmeno il tempo che finisse la puntata che guà sui social molti fan di Uomini e Donne hanno commentato l'uscita di Roberta e Alessandro. Molti utenti si sono mostrati scettici, certi che questa coppia non durerà. Tra i tanti commenti c'è infatti chi scrive «Tra un mesetto li rivedremo in studio». Altri ancora, ironicamente, si sono domandati quanto durerà, si accettano scommesse. Sono molti i commenti dello stesso tenore. Insomma, quasi nessuno crede che i due dureranno molto al di fuori della trasmissione. Parte degli utenti si è anche mostrata delusa dal comportamento di Roberta, che ha ceduto nuovamente alle avanze di Alessandro. Nonostante lui, poche settimane fa, l'avesse parcheggiata per conoscere Cristina. Altri fan, invece, si sono spinti più in là, sostenendo che i due siano solo alla ricerca di visibilità. Faranno viaggi, posteranno quanto siano felici e a Natale ritorneranno. Malgrado in molti non credano che la coppia Alessandro-Roberta possa avere un futuro, i due hanno dimostrato in studio di provare molta attrazione uno per l'altra. Il loro percorso è stato alquanto tortuoso. In molti ricorderanno che i due avevano avviato una conoscenza nel 2022. Poi lui aveva piantato in asso Roberta per Ida Platano, con la quale si era fidanzato. A quanto pare Di Padua non lo ha mai dimenticato, visto che quando Alessandro è tornato a Uomini e Donne a novembre del 2023, ha ripreso la conoscenza. Anche questa volta Vicinanza l'aveva, però, messa da parte per conoscere Cristina. Una situazione che non è andata a buon fine. Nonostante tutto, Roberta lo ha aspettato e gli ha voluto dare l'ennesima occasione. Il video è finito. Se ti è piaciuto, metti un like, commenta, condividi, iscriviti. Grazie.